Il quotidiano Il Resto del Cardino ha celebrato i 125 anni con un appuntamento a Urbino. Il Resto del Cardino, quotidiano di Bologna ma diffusissimo anche nelle Marche, ha cominciato una carrellata di appuntamenti durante il 2010 per festeggiare questo importante traguardo, i 125 anni di presenza sul territorio. La data di Urbino è quella di chiusura di questa celebrazione, al Teatro Sanzio si è tenuta una tavola rotonda per parlare di città, università e internazionalizzazione e ricordare il ruolo svolto dalla comunicazione, dalla stampa. Quindi presenti alla tavola rotonda rappresentanti delle istituzioni locali, provincia, comune e poi relatori, invece, Banca Marche, Ersu, università, per guardare all'internazionalizzazione, per guardare a questo intreccio che è indissolubile fra città e università. Su questi temi dunque ci si è interrogati e si è parlato. Non un punto finale, ovviamente, di analisi, ma anzi un momento per partire e guardare verso il futuro. Al termine di questa tavola rotonda, poi una mostra, inaugurazione nella Sala del Maniscalco della rampa di Francesco Di Giorgio, una mostra fotografica con la riproduzione di alcune delle più significative prime pagine del resto del Carlino che hanno segnato il tempo durante questi 125 anni. Durante le celebrazioni anche presenza degli studenti universitari che hanno occupato alcune parti, alcune facoltà ad Urbino, in particolare Magistero, per rivendicare uno spazio per il loro futuro. Contestazione della riforma universitaria a Gelmini, ma anche richiesta di attenzione ai temi che riguardano il diritto allo studio e gli studenti in generale, il loro futuro lavorativo dopo quello scolastico.